Bene, hai creato e inviato le tue fatture. Tutto è stato posto in conservazione. Ma come fare per condividerle con il commercialista? Abbiamo pensato anche a questo. I commercialisti hanno a disposizione un account gratuito per sempre che permette loro di accedere alle tue fatture. Gli basterà inserire la tua partita IVA e i permessi con cui vuole operare per chiederti di collegarsi al tuo account. In questo modo il commercialista potrà fare verifiche e supportarti durante l'intero processo di fatturazione. Potrà inoltre scaricare massivamente i documenti conservati, le fatture in formato XML o PDF e contabilizzarle in modo semplice e veloce sul tuo sistema gestionale. Tutte le operazioni potranno essere fatte direttamente dal tuo pannello online, in totale sicurezza e in modo rapido e comodo. Un bel risparmio di tempo ed energie, non trovi? Adesso che sai come collaborare con il tuo commercialista, per altre informazioni vai su aruba.it